Primo Riccitelli è stato uno dei maggiori compositori abruzzesi degli ultimi due secoli, una figura però trascurata e poco conosciuta, nonostante il suo rapporto umano e artistico con Pietro Mascagni. A Teramo una storica associazione culturale porta il suo nome ed oggi esce un saggio, scritto da Silvio Paolini Merlo, su questo grande artista che fu Riccitelli. La ragione principale per cui il maestro Maurizio Cocciolito mi ha chiesto di pubblicare questo testo, di dedicare un saggio monografico a Primo Riccitelli e proprio l'importanza oggettiva, che se non altro su piano storico oltre che artistico, che Riccitelli ha avuto nella sua epoca e direi nell'intera storia della cultura musicale della nostra regione, è sicuramente una delle figure più significative, più importanti, insomma, oggettivamente. L'altra ragione è che su Riccitelli mancava uno studio di questo tipo, cioè sono stati fatti, per lo più, ecco, c'è una lunghissima serie di interventi di natura puramente cronistica, insomma, pubblicistica, qualche ricordo sporadico, ma non esisteva ancora uno studio specifico approfondito che ricostruisse in maniera, per quanto possibile, completa questo autore, di cui purtroppo abbiamo pochissimi documenti autografi, pochissimi documenti specifici. L'Associazione della Musica e del Teatro, Primo Riccitelli di Teramo, è un'istituzione culturale prestigiosa che ha saputo mantenere vivo il ricordo del musicista abruzzese attraverso una costante programmazione di alto livello artistico e che non si arrende e non si ferma nemmeno in questi terribili mesi di Covid. Covid, lockdown, voi non vi fermate? Noi non ci fermiamo assolutamente, nel senso che nella speranza che perlomeno quando ci sarà la stagione estiva si possano realizzare, ci possa essere una partecipazione di pubblico, sia pure con tutte le precauzioni e con le limitazioni che ci imporrà la legge, noi abbiamo programmato una stagione concertistica e anche qualcosa di misto, un po' più teatral concertistico, diciamo teatral musicale, con grande piacere e con grande convinzione. Quando partirebbe questa stagione? Sempre da giugno in poi, perché siamo a fine marzo, non si vede ancora la possibilità di fare nulla, ma soprattutto dobbiamo aspettare la stagione calda, perché gli eventi sono tutti all'aperto. Noi non si vede ancora la stagione, non si vede ancora la stagione, non si vede ancora la stagione. Grazie a tutti.